Tanta paura nel primo pomeriggio di oggi a Valstania di Valbrenta per una canna fumaria che ha preso fuoco in un'abitazione di Riva Garibaldi, in pieno centro paese. In un primo momento si è temuto che le fiamme avessero lambito l'intera abitazione, tanto che i vigili del fuoco di Bassano sono intervenuti con ben quattro automezzi. Fortunatamente sono riusciti a domare tempestivamente il rogo, lavorando per un paio d'ore prima che lo stabile venisse intaccato.